buongiorno amori adesso ti porto fuori visto che hai deciso di svegliarmi sederti sul mio cuscino e dire è l'ora di portarmi fuori e hai anche ragione anche se ieri sei uscito a luna di notte c'è però vabbè è sempre ragione tu ragazzi approfitto per chiedervi un aiuto in merito a un trasportino per chi non magari potete aiutare chi ha animali per portarlo in sicilia faccio vedere quello che ho trovato su amazon ditemi cosa ne pensate ciao